Ma tagliati con i fagioli, la pasta si fa normalmente, sono tagliatelle che poi vengono tagliate di sghimbescio e il brodo di fagioli, un buon brodo di fagioli che se uno anche ci mette dentro un pezzo di osso di prosciutto, una cotica di prosciutto o qualche crosta di formaggio non gli fa certo male. Grazie